Se ti interessa acquistare i crediti di FIFA scontati, clicca il link in descrizione. Ciao a tutti ragazzi, ed eccoci qua tornati! E signori, nell'ultimo pack opening avevamo fatto il degrado. Due leggende, due movember, due in forma, tutto nello stesso pack opening. Oggi, signori, è ufficialmente iniziato il Black Friday su FIFA, quindi ci saranno pacchetti ogni fottutissima ora. E noi come spenderemo questo venerdì? Spacchetteremo, esatto. Quindi, signori, già da adesso, già per i soldi che voleranno, dovete per forza lasciare un like. Ok, signori, questi sono i pacchetti che ci sono per adesso. Noi iniziamo proprio da questi, già 1100 FIFA Points sono andati per... E devrai, ragazzi. Secondo pacchetto, andiamo subito. Vediamo un po' che cosa troveremo. Movember, aspetta, aspetta, no. Il problema dei movember, ragazzi, è che non sono tanto buoni, purtroppo. Non valgono tantissimo. In compenso è pieno di roba in questi pacchetti, ragazzi. Cioè, abbiamo iniziato moderatamente bene. Già un movember è andato. Vediamo un po'. Terzo pacchetto. Quando non c'è il flash di luce iniziale, lo schifo ovviamente perché abbiamo pochi pacchetti da aprire, il mondo sta aprendo tutto insieme, quindi ci dobbiamo sbrigare. Apriamo ancora quelli che restano, vediamo... Oh, ma non... Neanche walkout di merda, capite? Quello è il problema. Prendiamoci questo qui, ragazzi. È compagno di Max Courage, gioca nell'Ajax. Apriamone un altro, signori. Max Courage, portami per... Max Courage! È un risposto... Chi cazzo è? È Mally! Ok, però lo vedete, ragazzi. La fortuna di Max Courage. Dai, FIFA. Dai, FIFA. Per favore. E che co... Oh! Walkout! Dove cazzo sono le bandiere? Ma che cazzo? Ma Mkhitaryan? È un 85, c'è il walkout. Mkhitaryan non è terribile, eh. Però non si vende neanche così bene per essere un walkout, ragazzi. Continuiamo imperterriti. Imperterriti. E mi è uscito il portoghese sbagliato. No, ragazzi, ormai oggi puntiamo a Ronaldo o altre leggende. Sono questi i giocatori che ci devono uscire oggi. E ok, signori, sapete che c'è... Io questo apro un pacchetto da 300 FIFA Points e faccio il no-spack. Perché ho... Che cazzo... È difo, è difo. Spacchetto i pacchetti speciali e non trovo niente. Spacchetto il pacchetto normale e mi trova l'informa. Certo, dopo averlo sbancato l'altra volta FIFA, sinceramente, continuare su quel livello, trovando leggende, io penso che per quest'anno ho finito di trovare roba, ragazzi. Mi ha premiato con due leggende non avendomele mai date e ora mi dà solo diarrea. E manca un minuto, ragazzi. Sapete che c'è io questo pacchetto? Lo apro proprio con i crediti. Dammi qua... Sì! Che co... Ancora di... Ancora di... Ancora di... Non è che mi fa schifo, ragazzi, ma il problema è che mi esce l'informa sbagliato. A few moments later... Ok, signori, sono usciti i pacchetti da 125.000 crediti. Oh mio Dio. Signori, ora è il momento di splendere. Cioè, buttare denaro. Se non mi esce niente nei pacchetti da 125.000 crediti, signori, mi stacco le palle. Per favore, colpiscimi con qualcosa di buono. Che cazzo c'è? C'è? 2.500 FIFA Points su mascherano. Apriamo quest'altro pacchetto da 125.000 crediti che poi sto aprendo i FIFA Points, quindi non so perché li chiamo in crediti. Che cos'è? Villian, aspetta, Villian. Vale qualcosa, Villian. State buoni, Villian vale. E ok ragazzi, sapete che c'è? Questo, lo apriamo con i crediti normali? Con i crediti esce sempre qualcosa di buono. Di solito ho posato anche il joystick che... Porca l'altro! Che cazzo è? Cosa cazzo è? Oh mio... Vidal! È Vidal! Il cazzo di Vidal! Mamma mia, sì! Ok! Non è uno di quelli che mi aspettavo, ma comunque... Vidal è ottimo! Va anche bene per la mia squadra nel rotto di Pigeon 1. Voi avete visto un taglio, ma è passato un'ora e qualcosa perché sono dovuto andare via di casa e non ho potuto continuare ad aprire pacchetti da 125.000. Sono usciti altri due pacchetti, non ci sono più quelli da 125.000. Purtroppo penso che sia passata la nostra occasione di gettare via altro denaro. Eccoli qua, ragazzi! Allora, ce ne abbiamo 10 qui da 25.000 per 4 ore e ne abbiamo 5 da 35.000. Ora, apriamo prima questi qua e vediamo un po' che cosa ne esce, ragazzi. Mi dispiace di non aver continuato ad aprire quelli da 125.000. Sempre il portoghese sbagliato, me esce. Che ride il pezzo di merda! Ok, altri 350 prima points. Vediamo un po' che cos'è che... Gundogan! Gundogan! Ok, c'era già uscito anche l'altra volta. E Gundogan, lo sappiamo, si vende sui 30.000 crediti. Dai! Maledizione! Da! Movember! Lidley! Ma stavo pensando che il problema dell'ultimo pacchetto opening è stato che adesso, qualsiasi cosa trovo, mentre l'altra volta ero contento anche per i Movember, stavolta c'è stato Justin Bieber a Riano, adesso i Movember non bastano, porca puttana. Almeno personalmente non mi bastano, anche perché questi che stiamo trovando non valgono neanche troppo. E ok, signori, ultimo pacchetto da 350 FIFA points. Che Dio ce l'ha al man di boda e manco per il cane morto. Ok ragazzi, abbiamo questi pacchetti. Vediamo un po' se questi pacchetti qua... Perché? Perché? Oh, madonna santa! Cristo, santo, che... Ultimo, signori. Questo è veramente l'ultimo, perché non ce la faccio più, non ce la faccio più. Non ce la faccio più! Non c'ho tempo, oddio. Mi sono rivestito al volo come ero vestito prima, tra l'altro, nel video prima. Cioè, questo lo attacco tutto insieme, comunque, non so se si è capito. Pacchetti da 100.000, 51 minuti, 5.000 pacchetti restanti, li possiamo aprire 6. Oh mio Dio! Dai! Dai! Dai cazzo! Cos'è? No! Cos'è? Che cos'è? Oh mio Dio! No! Oddio, pensavo fosse Messi! Però è Aguero! È Aguero! Pensavo fosse Messi! Stavo per fottutamente piangere! Ok Aguero, va bene. Vediamo un po' che altro c'è, che altro c'è, che altro c'è, madonna quanta roba e questi pacchetti. Tutta schifezza! 3.000! Ne sono rimasti 3.000! No, 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 me devo muoverle, me devo muoverle! Dai! Cos'è? Che cos'è? No, un Movember, è un Movember, è un Movember di merda, è un Movember di merda! Ok! Veloci, 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 ok! Vediamo, 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 aspetta, aspetta, tutto schifo, tutto schifo, tutto schifo, tutto schifo, tutto schifo, ok! Ok, veloci! Veloci! Muoviti, porca puttana Ok? Che cos'è? Cos'è? Non dirvi che cambia di nuovo Che cazzo? Oddio santo Oddio santo Oh mio dio Linecar Eppure un if Eppure un cazzo di if Veloci Via 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 Quanti ne abbiamo? Ne abbiamo ancora tre Ne possiamo aprire ancora tre Dai, cazzo Mamma mia Sta per diventare di nuovo Non muovembre Ok, via Via tutto Via tutto Oddio altri due Ce la faccio Ce la faccio Dai Dammi qualcosa Che cos'è? No, un altro movembre di merda Lo schifo Non so cos'è Ok Gomis Via tutto L'ultimo Fammelo aprire l'ultimo Fammi aprire l'ultimo L'ultimo Mamma mia Oh mio dio Ti prego Ti prego No Oh Oh Cos'è? No, è Mkhitaryan Quando non fa vedere le bandiere È Mkhitaryan di merda Cazzo Non ci credo Uh, il barbone Ce lo teniamo Aspetta Se ce n'è ancora un altro Lo apro coi crediti Vabbè ragazzi Ce n'è Ce n'è Ne apro un altro coi crediti Ne apro un altro coi cazzo di crediti Dammi qualcosa Cos'è? Che cazzo è? Chi è? Pugba No Riferì 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 cazzo Uh, è pure un if Ok Se ce n'è un altro Se ce la facciamo Fammelo aprire Fammelo aprire Sì Dai Ok Due Che cos'è? No Signori Il fottuto Aguero Buonanotte If Ryan Movember Linecar Leggenda E Corb Movember Ho ritrovato una leggenda E che nessuno mi dica che non è vero eh Ok Primo proprietario Ecco qua La roba che ho trovato venerdì L'ho già venduta Quindi non figura qui Però come controprova di quello che ho trovato venerdì Vi faccio vedere che comunque Vidal è primo proprietario ragazzi Ci ho giocato tre partite perché mi sto qualificando per il FUT Champions Quindi ci ho fatto tre partite Quindi vi dico già che Vidal è entrato attualmente nella Zoda Scureggia Cioè io per la fretta poi non ho neanche guardato quanto cazzo vale Oh mio Dio Abbiamo fatto il jackpot Guarda Linecar quanto vale Guarda Linecar Il nostro culo non se n'è andato È ancora qui Un'altra leggenda Quindi signori adesso proviamo di nuovo Sarà impossibile Ma se ci riuscissimo vuol dire che ho i sostenitori migliori del mondo Perché signori dobbiamo provare ad arrivare di nuovo a 50.000 likes per questo pack opening E quindi signori per questo pack opening ci possiamo fermare qua Quindi signori lasciate un like per questo spacchettamento Sodica saluta Bella Bella roba Ma vaffan... Che cazzo attira Ma non ci credo No vabbè No vabbè stiamo ora... No vabbè È follia È follia Cioè il gioco mi sta fottendo questa finale pare che lo sa Renatino fallova Basti azzeri Sei cazzo Pori